He lost my car Che veicolo è Guarda l'orgallo primo Io ce l'ho da maschera al suino Guarda facciamo attenzione Guarda quanto corri Oh proprio l'orgallo Trollate bravo Tommi non me la freghi la prima posizione Mannaggia a te Ok Proseguiamo per questo bel parkuritos Anzi adesso è un gp Cos'è Per un attimo Mi sembrava la graziella Non la BMX l'altra bici di GTA Ok saltiamo così Andiamo più rapidi Vedi come sta recuperando Orzuinos E qui Marshall Oh Gira 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 Dopodiché Check del teletrasporto Ok Non so cos'è successo Sinceramente Grazie Tommi che mi hai ucciso Allora Proseguiamo per questo bel parkurito Cosa abbiamo qua? Tutti che cascano? Ma qui è pericoloso Sui Ok ok Siamo vivi però eh Oh regà Non mi cascate in testa Ok Però seguiamo Il primere Tommi Check del teletrasporto Dove siamo? Sui Di qua Di qua Di qua Ok Bello veloce Sui Bello veloce Bello rapido Ok Non ha fatto rumore Il check del teletrasporto Dritti Ah forse ho capito eh Quello l'è l'ascensore Una volta feci una gara E non sapevo come si saliva E non sapevo che bisognava fare così Guardate eh Se faccio in tempo No regà Devo aspettare Ma forse non è sincronizzato eh Ok ok No 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 Credo che è uguale anche per Tommi E ora di qua sui Sei vivo? Credo di sì Proseguiamo Oh mio dio Sui Facciamo un po' di attenzione qua eh Ok 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 Aspettate raga Concentrati eh Eh Sì sì Facciamo così Per sicurezza Sto facendo senza furtiva eh Però si può fare tranquillamente Eh ci siamo Proseguiamo Cosa abbiamo qua? Un tunnel Wow Che spettacolo Bellissimo Parkourito di like game Italiano Sì È tutto un parkourito italiano Regà Tutti con i colori dell'Italia Proseguiamo Ok Dai regà Io voglio una bella Primera posizione Erzuino qua Vedo che è in forma Anche se è la prima Corrida Della giornata eh Ma qui mi posso buttare Sì Il suino è cascato Ma sta bene eh State tranquilli E qui cosa abbiamo Aspettati eh Abbiamo Rockstar Ready D'ora va Sali Sali Mamma mia che spettacolo Regà Mi ricorda i parkouriti a piedi Che giocavo Che c'era una parte così In un parkour Ok saliamo su Eh lì c'è pure un tubo raro Abbiamo un tubo raro E un altro Tunnel Non faccio in tempo Credo proprio di no E vabbè Disattiviamo Rockstar Editor Vediamo se si bugga Regà Sì Ho liberato un po' di memoria Perché avevo la play Piena E praticamente Mi laggava pure Infatti adesso riesco a giocare Pure meglio Oh regà Il tubo raro Però a piedi Ah qui Questa volta mettiamoci la furtiva Va Ok Ok Che dite Ce la può fare O va sempre più avanti Ho l'impressione Che va sempre più avanti Eh No no Tutto ok Tutto ok Al corto di qua Regà Bellissimo questa parte Però ci dobbiamo sbrigare Perché stanno qua dietro Eh Io non la voglio Perdere questa bella Primera posizione Che facciamo attenzione qui Dobbiamo andare giù Sì Ah vedi altro tubo raro E qui cosa sappiamo Wow Bellissimo anche questa parte Sali sui Mettiamo una visuale così Che è più carino Guardiamo pure di qua Ah c'è un'altra casetta là Credo di sì Saliamo su Più veloce sui a salire Più rapido Ok Facciamo attenzione qua Andiamo piano Ok ok Meglio andare tranquilli Perché Il suino ogni tanto scappa via Siamo saliti bene Sì Pure di lato si poteva salire Credo di sì Però un attimo si è bloccata la play Perché ha salvato la clip Ok Qua c'è un bel check Mamma mia che spettacolo Scendiamo giù Sui No no veloce veloce C'è qualcuno qua dietro Eh non so chi è Aspettate che adesso guardiamo eh Chi è Matti Sui non me la freghi No 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 Dove sta lui Sta proprio nel tunnel Regà veloce 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 Più veloci che possiamo Di nuovo tubo raro Ok Andiamo giù Dove siamo? Ah non è finito Il parkurito Regà c'ho pochissima vita eh Non so nemmeno il perché Perché Matti è morto? Credo che pure io Dovevo morire Aspettate eh Ok Dove sta lui? Non lo so regà Noi saliamo Ok E qui cosa sappiamo? Allora qua Dobbiamo fare attenzione Perché Si può andare veloci? No 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 Devo dire che è facilissimo eh Credo di sì Guardate che spettacolo Il parkurito Nella spiaggia Una bella vista Ok Ah e c'è il traguardo Sei minuti Di parkurito? Credo di sì Perché se Scendiamo giù Arriviamo a sette minuti Non lo so regà Comunque noi Ci buttiamo E andiamo a concludere Con un bel wingsuit Se ce la facciamo Se ce la facciamo Ma io credo Proprio di sì Ole Prossima gara Ok Nuova gara Questa gara è stata creata Da Lugosi Mods Ed è un parkurito Con questo veicolo Che non mi ricordo Come si chiama Ragazzi che spettacolo Non ho mai fatto un parkurito Con questo veicolo Anzi a dire il vero Ancora dobbiamo provare Tutti i veicoli dell'arena Dei parkuriti Andiamo Cosa stanno gli altri? Ragazzi io c'ho un po' paura eh Ok Mamma mia che spettacolo De parkurito eh Andiamo 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 Vali rapidi Oh bisogna scendere Bisogna scendere Ok Ragazzi facciamo attenzione Qua metterò Lano Cosa? No 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 Aspettate eh Ok Ok Veloce Mamma mia raga Ci siamo La prima parte È fatta E ora Così Ok Mamma mia raga Che casino Che fa questa arena Non ci sono i droni Che peccato Mi serviva Un piccolo drone Che mi faceva Compa Compagnia Ok Aie Aie Aspettate Ok Bisogna andare piano eh Perché se vado troppo veloce Succede che me trollo Quindi Quindi bisogna andare di qua Ok Non so dove stavo andando Sinceramente Allora Facciamo così Ok Ok Aiuto Ci siamo E lì c'è un bel checkpoint Credo proprio di sì Dov'è questo bel check? Oh su Oh su Inut Te l'ho là qua Per favore E qui come salvo Scusate Aiuto Sale 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 State tranquilli Ok Allora Diciamo che si impunta Però se andiamo veloci Ce la fa Sì 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 Ok 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 No 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 Vai Olè Ci siamo Cosa sta dicendo Questo che parla Regà che ci sono pure i sottotitoli Acrobazia Non so il perché Aiuto aiuto Che trema la visuale Facciamo così E poi andiamo avanti Ok Giriamo No Facciamo così Giriamo leggermente così Ok 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 Credo che non caschiamo eh Quasi in punta sì Però se andiamo Moderati Riusciamo a passare Cioè con il gas Non al massimo Volevo dire Un quarto di gas Chi è quel suino là Ok E qui Wow Che spettacolo Andiamo veloci pure qua Ok Mamma mia Che casino Che fa l'arena Regà Uno si deve concentrare E questi qua Fanno il tifo Per il suino Dove sono tutti I spettatori Vedete Questi sono tutti i suini Mamma mia Quanti saranno Raga Dieci milioni di suini Non lo so Comunque credo che sono tanti Aiuto Bella pure questa parte Non ti emoziona Parcorito Ok Facciamo attenzione Andiamo qua E ci siamo Dopodiché L'hamburger Ok Aspettate Giriamo E lì c'è un altro Bel checkpoint Perfetto così Saliamo qua Aiuto Siamo Siamo vivi Però eh Ah regà Quanto è lungo Questo parkurito Nell'arena Già tre minuti Di parkurito Di solito Durano poco I parkuriti Nell'arena Però devo dire Questo qui È veramente Fantastico Il parkurito Di lucozimoz Aiuto Ok Facciamo attenzione Ah guardate Che spettacolo Questa parte Bellissima Ok Devo dire Che ho fatto I complimenti Pure al parkurito Però Però non ci ha trollato Cosa sui Cioè Dovevo scendere Non So il perché Sinceramente Ok E quella parte Con le ruote Regà Non lo so Non ho idea Io so solo Che ho visto Il check Che stava giù E infatti Sono sceso giù Regà Eccolo qui Il check Quanto manca Alla fine Allora è finito Il parkurito Doveva mettere Un check Più giù Così almeno Si faceva pure La parte Con le ruote Regà Perché abbiamo saltato Proprio quella parte Con le ruote Con i copertoni Più che altro Eh sì Vedete Bisognava scendere Da questo tunnel Il tunnel Di Sprank Extreme Comunque Andiamoci a prendere Questa bella Primera Posizione Comunque sia Se vi sono piaciute Queste gare Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Passate al mio secondo canale Big Pork Saluti Uessi su Easy Bye Ami Scrivetevi al canale Grazie a tutti.